E stamattina, sempre qui a Palazzuchigi, altro vertice, questa volta guidato dal sottosegretario Mantovano con i vertici dell'Agenzia per la Cybersicurezza e i servizi segreti dopo gli attacchi hacker che ieri hanno coinvolto anche il nostro paese. Il punto lo facciamo con Gabriele Lobello. Una ventina i server italiani compromessi nell'attacco hacker mondiale partito il 3 febbraio ha reso noto nel pomeriggio l'Agenzia italiana per la Cybersicurezza. Ciascuno dei server violati opera per decine di servizi digitali di aziende italiane medio piccole. In Italia è andata meglio che in altri paesi come la Francia, la prima ad essere attaccata, o la Finlandia, il Canada e gli Stati Uniti. Un attacco subito fronteggiato dall'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza che si sarebbe potuto evitare se fossero stati scaricati gli aggiornamenti come segnalato già nel febbraio 2021 dalla stessa società produttrice dei server virtuali violati. Chi ha installato la patch, ovvero la toppa informatica, non ha subito danni. Nessuna istituzione o azienda che opera in settori critici per la nostra sicurezza nazionale è stata colpita, afferma una nota di Palazzo Chigi. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha anche auspicato un ulteriore innalzamento del livello di protezione delle reti informatiche strategiche.